Sulla social tv del Consiglio regionale è disponibile un nuovo video sui 150 anni del canale Cavour. Realizzata in soli tre anni, dal 1863 al 1866, l'opera, lunga 86 km e ancora perfettamente funzionante, convoglia le acque del Po a Chivasso, si integra con quelle della Dora Baltea e attraversa la pianura fra Vercellese, Novarese e Lomellina, fino a raggiungere lo scaricatore nel fiume Ticino, nel comune di Galliate. A raccontare la storia e i segreti del canale sono gli acquaioli che ancora tramandano il proprio mestiere di padre in figlio.